La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. La cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. Questa cucina italiana con Pasquale presentata a voi da Lancia Bravo, i migliori alimenti italiani. È un po' di tempo, non troppo, quindi è bene. Quando volete vedere se l'avvocato pere, che è una pera questa qua, molto buona, anche insalata, allora si preme all'occhio qua, se è soffice allora è buona. Ora, voilà. Oh, you can make a lot of things with avvocatino, anything you like, actually, it's beautiful. Tutto che piace è buono, quello che non piace allora non è buono. Se cambiamo le ricette tutti i giorni ti dico io, allora siamo sempre giovani, eh? come no cucinare bellissimo you know if you make our recipe and change every day the sauce so we are young always and we feel very very good very good recipe that one you see and the sauce you know because fish is fish all over and the sauce it's important it's an infinity of way where we can prepare our beautiful sauce we use our fantasy because the cooking is arte fantasy now that one that's beautiful we add there a little fish or a chicken stock voilà here we gonna add there a little white wine not too much we don't make a soup we make a sauce non facciamo la 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 zuppa facciamo la una salsa and a little pill tomato here oh that's lovely ok Ok, e un po' di congentrato, un po' di pelato, un po' di butter, e un po' di sal, un po' di sapienza, un po' di peperoncino, un po' di peperoncino, se vi piace, se non vi piace, non lo usate. Come si facciamo? We're going to eat very good, yes. You see in the tomato actually, when you cook the tomato sauce, if you cook the tomato sauce in the pot, so it takes longer, but if you saute the tomato in the saute pan, when you make a foam in the top and it disappears, it's ready. Then you eat pasta with tomato fish and that, you taste so fresh, ah, mwah, mwah, better than my coffee. Ah, see, that's very nice. Now you can use the baby shrimps, or you can use these big shrimps, and you can, you can, if you have the big shrimps, you can cut in two, or if you want to make a beautiful bite, you put a whole one like this. And no salt when you cook. We add salt in the last minute. Potete usare i gamberetti piccolini, o questi grandi, li potete tagliare a metà, però questo è un boccone carino, sono assaporiti. Un minuto sono pronti, ma non aggiuncete sale, fin quanto è il punto della cottura che si serve. Altrimenti diventano duri. That's why it's a few, we add salt so they can cut. Ah, let's see. And you cut the one and the rice. Oh, right. e e domani no se la la shiri scaldar carica che giova alle buio non si trova e credo che ci sono qualcosa che ci sono messo in casa e ci sono i suoi o qualcuno cuocca o qualcuno cuocca o qualcuno cuocca la cucina dovrebbe pulirla o qualcuno cucina e qualcuno pulisce ecco allora partiamola ora 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 spettare ah vedete guarda l'intestino che c'è dietro questo è tutto bene e noi facciamo la cucina ah oh 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 e no so qui. Quindi, stiamo in sautè. Le saltiamo a vapore. Ah, voilà. Ora, per riposare la tavola con il cuore, abbiamo bisogno di una tavola con il cuore, 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 con il cuore con il cuore, con il cuore, con il cuore. Se pulisce il tavolo con l'acqua fredda senza saccone. Ma non andate che ritorno per un secondo, grazie. Please, don't go away. I'll come right back. How are we doing? Ah, we try our best, you know. Look at that. They are not ready yet. When the shell gets pink color, reddish, that's ready. So, we cover them up there. We're gonna add here something else now, oh, so good. We're gonna add here a little, uh, white wine. A little brown tea. A little brown tea. A little brown tea. A little brown tea. di mistero and we're going to add here a little chicken abroad voila oh look good enough to eat now we're going to get busy with our beautiful red capucho salad e cappuccio rosso you can use the white one wow now now we're going to slice them don't take the car away that's good you know now if you don't slice like this like that so what's like this I say so I'm going to test my cap like that so if you don't do like that you do like mama do like this maybe you finish late but you finish so you know a sharp knife is very important with that knife you can no slice proper ah beautiful look at that they look good enough to eat oh god now we're going to do that one now we're going to make noise here and that's it you know if you're somebody sleeping on a beautiful home so don't say that you go there and say hey get up you slice something every time you prepare something for the tummy you can add there apple one red green apple whatever you like it if you don't like it don't use it if you add nothing in our recipe that's all we're going to have and we're going to make sure that you can add there some green onions if you like it if you don't like it and here we have several angry nice wow mamma mia that's it you can add some green pepper whatever you prefer so that's universe and we clean them up to the table there that's beautiful now we're going to add here a little a little almonds un po' di mantorle a little sugar not too much a little more a little salt a little un po' di sale un po' di sennepin polva a little dry mustard a little oil un po' di olio if you don't like the olive oil or vegetable oil a little vinegar that's it that's it that's right now our lobster now we're going to clean them up let's stay if you make this salad so let's stay for about one hour in the fridge or the table so by the fridge it's better and then we'll serve now we're going to add here let me see oh that's a little brown tea not too much hello hi there st tombinando un vulcano qua and you flambato ah now it feels too hot so don't get close with your face because Buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon appetito. Buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon appetito. Buon appetito, buon appetito, buon appetito. Tu sole, oh bello in me, oh sole mio, sta in fronte a te, oh mamma mia, mamma mia. I'll use the salatia. Fatherly Christmas, look, good enough to eat here, look at that, wow. Ok, now that we, it's ready, we're gonna decorate after. Now, ah, the pasta, don't rinse the pasta in cold water. Well, yes, if you want, you are the boss, but you see, you just do like so, oh, so tasty, so crunchy. A little parmigiano romano, and we're gonna toss him up now. Well, ah, 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 ah. See, you, your hermits get tired, so the pasta is toasted, look at that. Oh, now we, we, we catch him up our lobster. Look at that. Oh, they are so crunchy, so notamente crocanti. That one has to be turned this way. So, so, so. And if you use the sauce for anything at all, for fish, for chicken, for pork, whatever you like it. If you have something left over in sauce, don't throw it. You save it for tomorrow. If you save something, you find it tomorrow. If you don't save it, you find nothing. Oh, no, a little, a little, here. A little, here. A little, here. You can squeeze a lemon, here if you like it? Yes. E questo lo mettiamo nella salata, quindi un uino oeste. Non andate, non andate, ritorno qua un secondo, grazie. Come abbiamo fatto? Beh, abbiamo fatto il migliore, va? Penso che non abbiamo fatto tanto male. Now, la pasta, so you can add some more cheese. This way, it's look, just good enough to eat. So, we decorate our beautiful salate. Voila. If you sometimes you get tired of cooking, remember though, my friend. It's better be tired of cooking than be sick. Yes. Cioè, ci stanchiamo tante volte di cucinare. Ricordatevi che è meglio essere malati di cucinanti, stanchi cucinanti, che essere malati. Spero di mai. Ma cucinare è l'arte più bella che si può avere. It's the beautiful art we should have. Yeah, so beautiful. Quelle me carrossette. Ah, la. Da, 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 da. Eh, voilà. One here, one here. Mmm. One here, one there. And one frimsi. Here. Mmm. Tasty. Mmm. Crunchy. Oh. I thank you a millionaire you allowed me in your beautiful homes. I'll see you next week. Vi ringrazio di avermi accettato le vostre case. Ci vedremo la prossima settimana. Au revoir. God bless you. Ciao.